Italia! Barbara sta per avere un bambino da me. Sta per avere un bambino. Io divento papà e tu nonno. Ci sono notizie che cambiano la vita. Se volete siete tutti i miei ospiti nella mia villa a Miami. Ma c'è qualcuno. Lei è un capone, un bifolco! Per favore, la carta! Sono rimasto sprovvisto. Che non cambia proprio mai! Simona Ventura, Massimo Boldi, Nino Frassica, Elisabetta Canaris, Teresa Mannino. La fidanzata di papà. Venerdì alle 21.20 su Italia 1.